Pilota, nel mezzogiorno Italia non ci sono altre esperienze del genere, singliamo un'intesa con Cassa Depositi e Presti e Fondazione Cassa Risparmio di Salerno per realizzare per un importo di 10 milioni di euro un intervento per la costruzione di una settantina di alloggi che saranno dati in fitto a 350 euro al mese, alloggi di 70 metri quadri che potranno essere poi acquistati in proprietà con diritto di prelazione. È un modo per affrontare in maniera seria il problema abitativo e per dare una risposta soprattutto a giovani coppie, famiglie che possono utilizzare in maniera ottimale anche alloggi di questa tezzatura.